Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, venerdì 26 ottobre. Allora, cosa succede tutti quanti venerdì nell'ultimo mese, negli ultimi anni? Beh, c'è Matrix questa sera, quindi non perdetevelo sicuramente, e c'è lo sciopero dei trasporti. È una specie di rito che noi dobbiamo subire ogni venerdì e qualcuno una volta in un governo di cambiamento potrebbe alzarsi e dire scusami, questo è il governo di cambiamento. Sapete che c'è di nuovo? Si vieta lo sciopero dei trasporti da parte di sigle sindacali molto poco rappresentative, esattamente tutti quanti venerdì. Questo forse è un governo del cambiamento, ovviamente avremo Repubblica, il Manifesto, il Corriere della Sera, Mario Monti e la Fornero che ci diranno che questo è un comportamento fascista, ma io un bel governo del cambiamento lo vorrei, cioè un governo che impedisse il fatto che si possano fare gli scioperi dei trasporti, chissà per lui per quale motivo, tutti i venerdì dell'anno. Ma lasciamo perdere, il governo del cambiamento oggi si è occupato di Mario Draghi che ieri in una conferenza stampa che si convoca in maniera ufficiale dopo le riunioni della Banca Centrale Europea a Francoforte si è limitato a dire che lo spread fa male alle famiglie e alle banche. Prima lezione di tecnica bancaria ovviamente in ogni università di economia e commercio se ancora ci sono nel paese, cioè se i tassi di interesse aumentano i prezzi dei titoli di Stato diminuiscono e quindi chi ha in portafoglio quei titoli di Stato come le banche ha una perdita secca perché deve dare il valore del suo magazzino che non è fatto da utensili ma è fatto da titoli di Stato al valore di mercato, quindi se il valore di mercato dei titoli di Stato scende perché aumentano i tassi di interesse le banche devono dire che hanno delle perdite in corso. Il mark to mark dei titoli di Stato fa sì che loro abbiano delle perdite, quindi se hanno delle perdite erodono il capitale se erodono il capitale prestano di meno sul fatto che le famiglie paghino di più i tassi di interesse quando aumentano gli spread e questa è cosa normale che è chiara a chiunque. Non è evidentemente chiara al governo perché Di Maio dice la seguente cosa, dice Draghi sa bene che l'aumento dello spread non dipende dalla manovra ma dalla paura dell'uscita dalla UE, questo è quello che dice Di Maio. Allora io posso anche concordare sulla prima frase di Di Maio cioè che non deriva tanto dalla manovra anche se io penso che una manovra di schifo come questa tutta di spese, tutta assistenziale, probabilmente un problema ce lo ha. Ma lasciamo perdere, possiamo dar d'accordo a Di Maio e cioè il fatto che non dipende dalla manovra ma come dice Di Maio dalla paura dell'uscita della UE, ma la paura dall'uscita dell'Europa, dall'Euro da chi deriva? Da un'impressione che gli ha dato Babbo Natale al governatore centrale della banca, ai mercati, agli investitori o gliel'ha data Di Maio o gliel'hanno data alcuni esponenti della Lega che chiedono esplicitamente di uscire dall'Europa? Io non entro nel merito se sia giusto o sbagliato ma quando Di Maio si difende dicendo non è colpa della manovra è colpa del timore che si esca dall'Euro, è questo timore che si esca dall'Euro, chi gliel'ha dato ai mercati? Babbo Natale o proprio questo governo del cambiamento? detto questo se avete ragione e cioè se volete andare fino in fondo in questa oggi follia di uscita dell'Euro fatelo e rivendicatelo, non è che possiamo svegliarci una mattina fuori dall'Euro e l'altra mattina invece dentro l'Euro, posto che mi sembra che questo governo abbia detto con chiarezza in alcuni esponenti che non si deve uscire dall'Euro, Conte, Tria e lo stesso Di Maio. Il tema fondamentale è quindi che oggi come dice Masciandaro ci siamo svegliati e sul Sole 24 ore di oggi con l'idea che i banchieri centrati non possono fare certe cose e quelle cosa non possono fare certe cose non possono cedere per accomodare le politiche fiscali dei singoli paesi e in questo Masciandaro sul Sole 24 ore dice una parziale verità perché il fatto che l'Europa non sia saltata negli ultimi anni deriva invece proprio dal fatto che la Banca Centrale Europea ha comprato debiti degli stati, non soltanto italiani, degli stati in difficoltà e se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea noi saremmo falliti come Europa, l'Euro sarebbe saltato, quindi in realtà cosa ha fatto negli ultimi anni come spiegano i monetaristi che non c'entrano nulla con Draghi, i monetaristi e la Martino? Dicono che questo Draghi ha fatto tanta di quella liquidà, ha creato tanta di quella moneta che ci troveremo dell'inflazione nel futuro, quindi ha fatto esattamente quello che dice Masciandaro non può fare, però Masciandaro dice queste politiche accomodanti non possono essere fatte per i singoli stati e allora lì arriviamo al punto, cioè la Banca Centrale Europea non può accomodare la politica soltanto dell'Italia magari danneggiando quella francese o tedesca e allora qualcuno alza il ditino dalla Lega e dice facciamoci la Banca Centrale Italiana come c'era la Banca d'Italia e ritorniamo in quel vortice che lo stesso Di Maio oggi ha negato di dire che nessuno vuole l'uscita dall'euro, se ti fai la banca tua sei uscito dall'euro. Telese oggi sulla verità invece ve lo segnalo fa un pezzo che è indirizzato anche al mio direttore Sallusti tutti quelli che si accorgono ora forza spread, non è esattamente così mi auguro per Sallusti ma non dice forza spread Sallusti dice semplicemente che lo spread non è un termometro che si può buttare via, però capisco bene la contraddizione di quelli che oggi sembrano diventare i grandi amanti dello spread e quelli che dicono l'Europa ce lo dice ma che fino al 2011 ci spiegavano che l'Europa era contro l'Italia per un complotto contro Berlusconi, devo dire che è abbastanza ridicola la posizione di alcuni politici che oggi scoprono che sono passati dal complotto al forza spread. Che forza Italia sia in una specie di situazione imbarazzante, insomma non c'è bisogno di essere degli analisti politici fini, oggi mi sembra sul Corriere della Sera bastava leggere una specie di colonnino in cui Toti governatore della regione Liguria se ne dava di santa ragione con Mulet portavoce di forza Italia dicendo a Mulet che lui è un paracadutato mentre Mulet diceva che Toti metteva zizzania, mettiamola così, insomma che due esponenti importanti di forza Italia che si è ridotta all'1% in Trentino e che non so quanto abbia a livello nazionale diciamo al 10% a essere generosi, insomma mi sembra che ci siano i segnali di una lite come si suol dire fratricida. La stessa cosa mi sembra che sia avvenuta anche tra la Carfagna, la donna che non vuole mai essere intervistata se non gli fai 20 domande in anticipo scritte ben congegnate, intendo in televisione senza ovviamente nessun, come se fosse no, diciamo il presidente del mondo, non ci vuole nessuno che la possa interrogare. Insomma lasciamo perdere le questioni di forza Italia che sono poco interessanti nel panorama di oggi, la cosa veramente interessante è l'assassinio purtroppo di Desiree, la giovane 16enne ammazzata qua a Roma a poca distanza da qua da dove viviamo tutti quanti noi in una zona occupata, Sallusti scrive una lettera a Desiree, una forma retorica per dire cara Desiree nessuno ti ha difeso come tanti invece si sono premurati di trovare scudi e difese nei confronti di quelli che ti hanno ammazzato. Questo omicidio che tu hai subito nonostante tutto quanto deriva dal fatto di una specie di convenzione per la quale gli immigrati in ricerca di asilo come quelli che ti hanno ammazzato possono campare in questa città indisturbati. Nordio in altri termini dice più o meno la stessa cosa, cioè gli irregolari che restano in Italia cosa fanno? Spacciano, si prostituiscono, utilizzano la prostituzione, insomma crea questo simbolo, insomma direi tempo con Chiocci, Nordio sul messaggero e Sallusti, tutti sulla linea dell'immigrazione come nuova piaga soprattutto nelle parti meno illuminate delle città. Sulle scale mobile di Roma, io la trovo una cosa gravissima questa della scala mobile di Roma, se non posso imputare direttamente al sindaco di Roma quello che avviene nelle case occupate come il caso di Desiree, come possono avvenire a Milano a Rogoredo, come possono avvenire a Padua vicino alla stazione, come possono avvenire a Mestre e in tante altre città italiane, beh una cosa sì però la posso dire, se c'è una scala mobile di una stazione della metropolitana che cade e tu sindaco dici subito quelli stavano ballando sulla scala mobile e questo non è vero e i tifosi russi 24 feriti, non stavano ballando per niente come si vede dalle camere, tu sei una bugiarda, tu sei una bugiarda. Allora io mi chiedo a tutti voi che volete togliere le autostrade, volete togliere l'Alitalia, volete togliere le aziende private, le volete far gestire all'aranci, perché voi le fate gestire agli amministratori pubblici, ai manager pubblici, alle persone nominate dalla Lega, dalla Forza Italia, dal Movimento 5 Stelle, cioè dalle raggi dei prossimi dieci anni, io voglio chiedere a voi, quando c'è una piccola tragedia come 24 persone che cadono sotto una scala mobile, tutti i giornali zitti e muti, perché? Perché ovviamente la raggi, il sindaco di Roma dice che stavano ballando, perché ovviamente non è colpa di nessuno, perché a Roma ci sono 50 mila dipendenti pubblici, 27 mila nelle municipalizzate, 27 mila al comune, ma non è colpa di nessuno se una scala mobile in questa città fa 24 feriti, questo mi fa venire il sangue al cervello, quindi quando una dice la bugia di questi termini e poi noi oggi ci dobbiamo raccontare che abbiamo già condannato i Benetton, che sono stati sicuramente dei fenomeni nel non riuscire a gestire le autostrade, allora mi dico, siamo così convinti che affidare alla signora Raggi la responsabilità della metropolitana di Roma sia una cosa buona e giusta, sapete che vi dico? Io mi spiace non essere più residente a Roma, io voglio la privatizzazione, c'è un referendum di cui non parla nessuno, cari consiglieri di vigilanza della RAI che state a pensare soltanto a chi sono i nuovi direttori del Tg1, Tg2 e Tg3, per quale motivo un referendum a Roma sulla privatizzazione dei servizi tipo alla metropolitana e l'ATAC nessuno lo sta pubblicizzando in RAI? Perché? Perché? Visto che la RAI di questo deve parlare, se io parlo di questo faccio lo 0%, è una roba che riguarda RAI, io vorrei tutti i giorni campagne elettorali sulla privatizzazione dell'ATAC, chiaro? Non gestita in questa maniera sciagurata, vabbè, insomma, l'avete capito? Straordinaria oggi in termini politici l'opinione della stampa, Francesco Bei sulla stampa oggi parla a un certo punto e dice che che ne dica Trump? Io trovo fantastico, che che ne dica Trump? Un tempo, cioè, se noi siamo isolati da Macron e dalla Merkel, che poi non siamo isolati, diventa una tragedia, invece il nostro giornalista di punta della stampa, che che ne dica Trump? È Presidente della Repubblica Americana, no? Noi eravamo, insomma, gli atlantisti, siccome adesso non vi piace Trump, che che ne dica Trump? Che ieri mi sembra che ha fatto una chiamata con l'inutile conte, però, insomma, l'ha fatta questa telefonata, si sono sentiti, ne hanno parlato, comunque, che che ne dica Trump? Le elezioni, secondo gli analisti sopraffini della stampa, potrebbero essere anticipate a febbraio. Se non è la privatizzazione per mettere a gara pubblica l'assegnazione, bravissimo, è quello, voglio là, ha perfettamente ragione un lettore, è mettere a gara pubblica l'assegnazione, questo è quello che dobbiamo fare a Roma, hai perfettamente ragione. Mi scuso con quelli che hanno, con me stesso, confuso, privatizzazione messa a gara, che è una cosa completamente diversa, ma che dà il senso che ci sia una competizione per gestire questa roba qua. Detto questo vi saluto, vi do appuntamento questa sera, anch'io vorrei privatizzare il Parlamento, ma di fatto no è, vi do appuntamento a questa sera con Matrix, in seconda serata, su Canale 5. Ricordatevi, ciao Rita, Rita sicuramente ci sarà questa sera, la vedo sempre collegata, e Francoise un abbraccio anche a te. Ciao!